Ciao a tutti, faccio questo video relativo all'apertura dei bar perché è un po' di tempo che volevo farlo e perché effettivamente di gente che vuole aprire i bar ce ne sono tante, ce ne è tanta, quindi può essere magari interessante per qualcuno. Allora, volevo parlare dei requisiti obbligatori per l'apertura, quindi per presentare la scia, parlare quindi di un'attività sostanzialmente collegata all'apertura e poi di alcuni aspetti, per esempio, sulla gestione degli allergeni e della tracciabilità. e che potrebbero essere utili per la gestione di un bar, una volta che è aperto ovviamente, e degli avrempimenti legali, quindi il manuale HCCP, corsi DVR e così via. Quindi possiamo iniziare. Allora, quando si parla di bar effettivamente si parla di attività molto diverse tra di loro, cioè a volte ti capita di avere a che fare col barettino che fa i bicchieri di vino, la caffetteria e poco altro, oppure a volte ci sono dei bar che fanno, non so, colazioni più complesse, bar serali, bar di locali notturni, bar che fanno aperitivi col sushi, col risotto, col tramezzini, fanno un po' di tutto. Quindi bar effettivamente è una questione un po' generico parlare di bar e quando si parla di sistemi di autocontrollo ovviamente è fondamentale capire a che tipo di attività ci stiamo riferendo. Partirei con il requisito professionale e i requisiti morali. Allora, il requisito professionale ne ho già parlato molto in altri video, quindi non voglio fare il pippone oggi. Cercherò di essere abbastanza sintetico, però è una cosa importante, quindi voglio che sia conosciuta. Il requisito professionale è fondamentale in fase di apertura perché quando presenterai la scia con il commercialista ovviamente dovrai dichiarare chi detiene il requisito professionale. Vuoi essere tu, può essere un preposto. Se sei tu, il requisito professionale puoi ottenerlo sostanzialmente o facendo il corso sub o per motivi di studio perché hai studiato in una scuola attinente al settore merceologico alimentare oppure per motivi di lavoro perché hai lavorato in due anni e negli ultimi cinque. Entriamo un attimo nel merito. Allora, il corso sub è un corso piuttosto lungo, dura più o meno 120-130 ore, quindi ci vuole qualche mese per farlo. Di solito organizzano le lezioni la sera perché ovviamente essendo così lungo di solito la gente lavora, quindi può farlo solo la sera. Una volta terminato il corso c'è un esame che viene supervisionato dalla Camera di Commercio Locale è un esame scritto orale e una volta superato l'esame ti danno questo attestato. Questo attestato quindi viene prodotto per dimostrare la detenzione del requisito professionale da parte del titolare. Secondo aspetto, io il corso sub non devo farlo se fossi per esempio in possesso di un titolo di studio attinente al settore merceologico alimentare, per esempio io sono un veterinario quindi non faccio il corso sub medici, biologi, agronomi, tecnologi alimentari e così via sono tutti esentati da fare il corso sub per motivi di studio. Relativamente alle scuole superiori, per esempio l'alberghiero, per esempio l'istituto tecnico agrario, ovviamente ti danno un requisito professionale per queste attività. Infine, non devo fare il corso sub se ho lavorato due anni negli ultimi cinque come dipendente qualificato come titolare. Allora, come titolare o socio è facile, cioè avrò una visura camerale per dimostrare la mia attività. Mentre come dipendente dovrò portarmi dietro tutti e 24 le buste paga per dimostrare che ho fatto due anni negli ultimi 5 come dipendente qualificato. Cosa vuol dire qualificato? Vuol dire dal quarto settore del contratto nazionale in su. Questo per quanto riguarda la detenzione del requisito professionale da parte del titolare. L'alternativa era quella che vi dicevo, cioè se il titolare non ha il requisito professionale può prendere un preposto. Il preposto è uno che ha il requisito professionale che te lo presta per farlo molto semplice, quindi dovrà dichiararlo nella scia. Il problema del preposto è solo uno, cioè che è quello che giusto visto la settimana scorsa non in un bar ma in una macelleria, che non c'entra niente con i bar, però il concetto è uguale, cioè questo qua aveva un preposto, il preposto l'ha mollato perché andato, Dio se lo sa dove, era un ragazzo straniero. E niente, è arrivata la polizia commerciale, era una macelleria di Parma, vicino alla provincia di Parma, niente, gli ha chiuso l'attività, fin tanto che non fosse stato individuato un nuovo preposto per questa attività. Funziona così. Requisiti morali, qui andiamo via veloci, i requisiti morali di solito non sono un problema nel senso che chi è un delinquente abituale, chi ha reati nel campo della frode, dell'igiene alimentare, così non può presentare la scia per il settore alimentare, come mi sembra giusto, però di sottolinea una cosa molto diffusa. Veniamo adesso a un aspetto importante, perché quando apri il bar ovviamente devi fare il manuale di autocontrollo. Allora come deve essere fatto, quanto deve essere grande e complesso, una domanda che ovviamente ti fanno tutti, perché effettivamente dipende dal tipo di attività, dipende dal tipo di bar, cioè ci sono come vi dicevo dei bar che hanno rischi igienici nulli sostanzialmente, oppure bar che hanno rischi igienici vari più complessi, magari hanno tanto dipendenti, hanno alimenti molto deperibili, magari fanno gli aperitivi che li avrete visti anche voi col sushi, con tartine, col pesce e così via. Quindi il manuale ovviamente dovrà essere personalizzato sulla base del layout, del personale, delle attrezzature, di che prodotti fai, che prodotti non fai, perché il livello di rischio ovviamente varia molto. Alcune informazioni di base, 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 che però devono essere conosciute bene se uno vuole aprire un bar. Allora sono semplicissime ovviamente, io ve le dico però magari per molti che hanno già un'attività, forse saranno anche un po' stupide. Allora 1. Comunicazione degli allergeni. Può succedervi nei bar che vi troviate per esempio a dover somministrare, non so, brioche, primi precotti, roba del genere. In questo caso questi prodotti non li preparate voi. Vengono prodotti da imprese terze, voi semplicemente li fate la doratura delle brioche, riscaldate il piatto pronto e lo somministrate. In questo caso come fate voi a sapere che allergeni sono contenuti e come fate a comunicarlo al cliente soprattutto? Allora il modo più semplice è quello di farsi dare il listino con le schede tecniche o alcuni hanno, non so, dei quadernini con tutte le foto, gli ingredienti, gli allergeni. Questo qua lo mettete a disposizione dei clienti, di solito per le brioche, per le frolle viene appeso alla vetrinetta delle brioche. Fine della questione. Se il cliente è allergico alla soia o alle uova non prenderà la brioche contenente la crema per esempio, ma prenderà quello con la marmellata, sempre che l'impasto ovviamente non contenga uova. Se le contiene da ecco, importante. Invece potrebbe succedervi che i piatti li preparate voi, le preparazioni le fate voi. Vi faccio un esempio. Alcuni bar fanno pranzi di lavoro tipicamente, no? Quindi preparano insalate, panini, piadine, toast, taglieri, roba del genere. In questo caso ovviamente non c'è un fornitore che prepara l'insalatona fatta da voi, siete voi stessi che la preparate. E quindi come fare a comunicare gli allergeni della vostra preparazione? Non so, facciamo finta che prepariate l'insalatona con il tonno, la mozzarella e le uova, ok? Quindi gli allergeni saranno pesce, latte, uova. In questo caso si può fare o un menù, per esempio, visto fare un po' di tutto, o potete fare un menù, magari in fondo al menù mettete la leggenda dei 14 allergeni corrispondenti con i numerini da 1 a 14 e a questo punto mettete accanto ad ogni preparazione il numerino o i numerini corrispondenti. Quindi accanto a questi insalatori c'era scritto 179 che corrisponde a latte, uova e... mi ricordo se l'ha detto, ok? Per esempio potrebbe anche essere opportuno fare in un modo diverso, tipo se fate panini già preparati, avete un listino fisso, potete mettere quindi gli allergeni anche su un cartellino davanti ai panini che così è comodo il cliente lo vede e decide se comprarlo o meno. Infine, se non volete farne uno o nell'altro, potete scaricare la scheda 7 sul sito www.hccp4me.it che è in pdf, è gratuita, può essere scaricata da tutti, li trovate tutti gli allergeni già scritti così non c'è il rischio di sbagliare. Mettete i nomi delle varie preparazioni, mettete le crocette sotto l'allergene presente, o gli allergeni presenti in quella determinata preparazione, quindi è il modo un po' più semplice che siamo inventati noi per risolvere questo problema. La procedura di gestione e comunicazione degli allergeni è ovviamente una procedura importante, deve essere messa all'interno del manuale HCCP, quindi verificate che ci sia. Tracciabilità, altra questione un po' delicata nel senso che per assurdo trovi più problemi di tracciabilità nei bar che nei ristoranti in cui la tracciabilità effettivamente è una materia veramente incasinata, perché per i bar l'attività è veramente semplice, cioè per quanto riguarda la tracciabilità esterna gli adempimenti sostanzialmente sono due. Allora, uno, tenere via i documenti di acquisto, quindi le bolle, le fatture accompagnatorie e così via, per dimostrare che quel determinato prodotto alimentare l'avete comprato da quel determinato fornitore. Due, fare un elenco dei fornitori. Come fare a fare l'elenco dei fornitori? Scaricate la scheda 9 sempre sul nostro sito hccp4me.it e il pdf, come vi dicevo, è scaricata. Cosa c'è scritto? C'era scritto il nome del fornitore, i dati di contatto, perché? Perché qualora ci fosse una non conformità sul prodotto, voi siete tenuti a informare della non conformità l'autorità sanitaria e il fornitore, in modo tale che poi non venda ad altri clienti questo prodotto qua. Quindi questi contatti sono una cosa molto utile. Per quanto riguarda la tracciabilità interna, invece la questione è un pochino più complicata, ma neanche tanto. Allora vi faccio qualche esempio. Facciamo finta che avete un salume sottovuoto. Lo aprite perché dovete affettarlo. A questo punto l'etichetta non la buttate via, quando aprite scrivete la data di apertura sull'etichetta e dopo che avete affettato il vostro salume, lo rimpellicolate con la sua bella etichetta fine. È possibile, se non fosse, se non è comodo mantenere l'etichetta unitamente al prodotto, potreste anche tenere l'etichetta da un'altra parte, ma io un po' ve lo sconsiglio, perché tutte le volte poi ti vengono a dire sì, ma io, nelle sedi di controllo ovviamente ti dicono sì, ma io cosa ne so che questa etichetta di questo prodotto, poi magari avrete due prodotti di due lotti diversi e viene fuori una minata. Quindi se possibile tenetelo insieme. Altra questione relativa alla tracciabilità interna sono le autoproduzioni, per esempio facciamo finta che affettate salumi, tagliate il pomodoro per fare le capresi, tagliate il formaggio perché vi serve per le tartine e così via. Quando fate questo lavoro magari lo fate in un momento di calma e poi dovete somministrare la cosa alla sera, per esempio. Mettete tutto il prodotto all'interno di una vaschetta chiusa, la vaschetta ovviamente conservata in frigo ed è identificata con un'etichetta riportante, non so, mozzarella, cubetti, fatta il giorno tra d'Italia. Questo perché deve essere evidente chi l'ha fatta, cioè voi, e quando è stata fatta, che non è stata fatta durante le guerre puniche, ma è stata fatta in giornata sostanzialmente. Questa procedura di tracciabilità esterna e interna ovviamente, come capite, è piuttosto importante ed è ovviamente da riportare all'interno del manuale HCCP, anche questa. Per quanto riguarda l'igiene degli addetti, altro punto un po' dolente perché nei bar vedi veramente un po' di tutto. Allora, dipende un po' dall'attività che sta facendo l'addetto, cioè fin tanto che l'addetto mi fa il caffè, mi versa il bianco, non ci sono requisiti sanitari, sostanzialmente nessuno verrà mai a contestare che il barista magari, non so, ha le unghie smaltate. Diverso discorso invece se questo barista qua, questa barista qua, si mette anche a fare insalatone, panini, preparazioni, affetta, taglia e briga e robe di questo genere. In questo caso ovviamente dovrà indossare un cappellino per evitare che i capelli contaminino i prodotti e un grembiule per evitare di contaminare i prodotti con i propri indumenti personali, no? Ovvio che non è il caso che indossi orecchini, collane, braccialetti, anelli, piercing, le unghie non devono essere smaltate, come vi dicevo. Insomma tutto ciò che può costituire un corpo estraneo nell'alimento o ostacolare la pulizia delle mani ovviamente non è visto bene. Magari una cosa che potete fare è se sei una persona da sola, come tipicamente magari prima di entrare nel cucinotto a preparare le cose che deve fare, si tiene lì comodo il grembiulo e il cappellino se lo mette se lo toglie quando entra e quando esce. Infine sempre relativamente al personale volevo parlarvi dei corsi HCCP così ce lo togliamo subito questo argomento. Allora facciamo finta che io sono il titolare, io ho tre dipendenti e quando l'AS viene da me cosa mi chiederà? 4 attestati, il mio e quello dei tre addetti. Alto rischio, basso rischio? Dipende. Se il bar fa solo caffè e poco altro, basso rischio secondo me è corretto. Se il bar inizia a farmi preparazioni, aperitivi, il risotto, il sushi, quella roba lì, secondo me alto rischio è più corretto perché effettivamente si tratta quasi di una preparazione, non dico di ristorazione ma quasi. Ok? Ecco se volete iscrivervi al corso HCCP in descrizione trovate il link alla pagina di iscrizione. Tornando un attimo al manuale HCCP che mi metto una cosa adesso. Come funziona la redazione del manuale HCCP per un bar? Vi dico come faccio io e così vi regolate se vi sembra una cosa logica. Allora, di solito mi faccio mandare le foto del bar o il video di tutti i locali, tutte le attrezzature. Mi faccio mandare la planimetria così riesco a orientarmi un minimo e poi faccio un'intervista telefonica piuttosto corpuscia, chi l'ha già fatta lo sa, perché mi interessa sapere insomma cosa fanno in questa attività qua, perché ovviamente è molto variabile come vi dicevo, quindi fanno aperitivi, colazione, bar serale che fa solo cocktail, roba del genere. E una volta che abbiamo raccolto tutti questi dati noi prepariamo il manuale con le varie procedure e finita lì lo mandiamo al cliente e cerchiamo di farlo il più possibile quindi commisurato al tipo di attività. Inutile fare delle cose complessissime in un bar dove lavorano due gatti che fanno quattro caffè, un altro discorso è un sistema di autocontrollo di un bar in cui lavorano 20 dipendenti e lavorano dalle 6 di mattina a mezzanotte, ok? Se nel fare il manuale questi dati non vi fossero chiesti dal consulente, beato il consulente perché è un veggente per chi non sono capace a prevedere quello che è ovviamente senza farmelo dire. Per la sicurezza del lavoro allora di solito viene fatto il dvr standardizzato che è il documento più importante previsto dal decreto 81 allora è anche qua ovviamente per farlo devi raccogliere delle informazioni cioè le mansioni svolte dal personale, l'attività, i rischi, le strutture, le attrezzature, gli impianti eccetera eccetera. Oltre a questa parte di analisi del rischio nel dvr trovate una parte molto 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 importante che si chiama il piano di miglioramento per esempio nel piano di miglioramento il consulente ti dice guarda devi recuperare non so il certificato di conformità dell'impianto elettrico, devi fare la prova di messa a terra, devi preparare e applicare in giro la cartellonistica, devi nominare il medico competente se c'è la necessità per determinate pensioni e infine nel piano di miglioramento trovi l'elenco dei corsi che devono essere fatti dal titolare e dagli addetti. E' una cosa molto importante perché ti dice che tipo di corso devi fare e di che livello di rischio. Quindi secondo me è una cosa molto utile perché a questo punto tu hai la lista della spesa e non rischi di sbagliare, ti fai tutti i tuoi corsi e è finita la questione. Quando vengono a fare i controlli gli fai vedere il dvr e gli attestati di corso. Non sono tanto entrato adesso nel merito di come è strutturato un manuale HCCP o un dvr perché ovviamente sono dei documenti abbastanza complessi, cioè potremmo anche entrare un po' del merito, ho già fatto dei video su queste cose però alla fine delle suonate è una cosa che non fa il titolare del bar perché c'è altro a cui pensare ovviamente, viene fatto dal consulente. Quindi secondo me anche per perdere tempo per entrare nel merito delle singole procedure diventa una cosa un po' complicata. Per quanto riguarda procedure di allergenia e tracciabilità, ve l'ho anticipata, cioè ci sono alcuni aspetti che devono essere trattati bene. Ovviamente ci sono anche altri temi all'interno del sistema di autocontrollo, fornitori, controlli infestanti, temperature e roba del genere. Quindi quando vi arriva il manuale HCCP, ecco questo è importante, leggetelo bene perché poi quando ci sono le ispezioni non è che ci sono io a rispondere agli ispettori, ci siete voi e quindi è giusto che conosciate quello che c'è scritto sul vostro manuale HCCP. Allora le cose importanti ve le ho dette più o meno tutte, ovvio che magari ci potrebbero essere altri temi che non mi sono venuti in mente, anche perché non volevo fare un video lunghissimo questa volta. Non so se ci sono riuscito. Se ci fossero degli argomenti che vi piacerebbe fossero trattati sul canale YouTube, ovviamente scrivetevelo nei commenti. Direi che per oggi è tutto, grazie, ciao ciao!